Ciao a tutti, buongiorno e benvenuti. Oggi ci troviamo in compagnia di Damiano Dordi, direttore generale di Fratelli Giacomel. Buongiorno e benvenuto Damiano. Ciao Fiona, buongiorno a tutti, grazie. Guarda che professionalità, ti vedo già lì subito, sei nel salone, giusto? Sono nel salone, sì, sì, in questo momento in un salone di una marca spagnola. Ah, provo a indovinare, Seat. Bravissima. E applausi. Era facile questa comunque. Senti Damiano, mi racconti un pochino brevemente che cosa ruota attorno al mondo del brand Fratelli Giacomel. Allora, Fratelli Giacomel, azienda comunque storica, dal 68 nasce dall'idea di questi fratelli, proprio Fratelli Giacomel, questi quattro fratelli che creano nel 68 una carrozzeria a Milano, in via Ludovico il Moro. Dopodiché hanno questa fantastica intuizione di aprire il primo showroom ad Assago. Fai conto che Assago negli anni 90 era campagna, proprio campagna, campagna, campagna. Completamente, sì. Completamente. E loro negli anni 90 aprono la prima struttura dedicata interamente alla marca Volkswagen, inizialmente, e poi Audi. Pian piano, con la crescita, con l'espansione del paese, del paese Assago, e quindi di tutta l'area del Sud Milano, il concetto del Forum di Milano, quindi questa cosa di metropolitana, nel 2004 costruiscono la struttura come la vedi oggi, quindi una struttura molto avveneristica, che si è allargata, stiamo parlando di quasi 70.000 metri quadrati di concessionaria, quindi veramente noi ridendo tra di noi ci diciamo che Fratelli Giacomel è la concessionaria con Assago intorno. Bello, perché comunque è molto grande, cioè già dalla via si vede che è infinito. Sì, bravo. Fai conto? Abbiamo circa 500 metri lineari di fronte strada, più tutta la parte dietro. Quindi, vabbè, già questo ti fa un po' capire cosa gravita intorno a Fratelli Giacomo. Sicuramente gravita tanto entusiasmo e tanta passione che deriva dal DNA dei fratelli, che ne hanno veramente messo tanta passione, tanta dedizione in quello che hanno fatto e che tuttora fanno, perché ti posso garantire che i fondatori sono qui, che girano in azienda, si danno a fare, se possono ci danno una mano, quindi veramente c'è tanta di quella passione. Anche la spinta verso il digitale sicuramente nasce un po' anche dalla loro intuizione, dal fatto di dire comunque noi abbiamo saputo affrontare qualsiasi momento, qualsiasi periodo di crisi, però l'abbiamo sempre affrontato con lo spirito che conosciamo. Quello del tipo, ok, è arrivata sta roba, cosa facciamo? Ci rimbocchiamo le maniche e ne veniamo fuori. Quindi quello che c'è intorno è proprio questa cosa qua, è anche lo spirito di noi, dei collaboratori, dei ragazzi, traspare. Credo che sapersi rinnovare o comunque affrontare i momenti sempre in modo nuovo e con un punto di vista diverso possa aiutare anche in periodi come questo, perché infatti la prossima domanda è proprio quella del come sono cambiati i comportamenti dei consumatori prima o dopo il lockdown, ma come siete cambiati anche voi, perché non è solo il consumatore traina, ma poi la testa che c'è dietro deve pensare a un modo per risolvere un problema. Sì, hai detto bene. Diciamo che un anno fa, circa 11 mesi fa, c'è stata questa brusca frenata, no? Oddio, 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 cosa succede? Vabbè, abbiamo chiudo la concessionaria nei primi di marzo e proprio 24 ore dopo noi eravamo virtualmente aperti, perché veramente abbiamo avuto una capacità di reagire alle situazioni in modo incredibile. Quindi chiaramente, come puoi immaginare, inizialmente siamo stati un po' storditi, no? Perché è successa una cosa che dici, porca vacca, adesso si può dire porca vacca. Sì, l'abbiamo detto, ma non è nulla di che, immagino che tutti noi l'abbiamo pensato mentre eravamo in questa situazione. Veramente, dopo la prima serata, già al mattino ci stavamo collegando tra di noi per trovare la soluzione. La soluzione l'abbiamo trovata, è stata veramente quella del sviluppare, cioè velocizzare, accelerare quel processo di digitalizzazione che era già partito qualche anno prima. Quindi il comportamento si è cambiato, nel senso che i clienti, come noi del resto, hanno subito questa frenata incredibile di tutto quello che stava accadendo, si sono tutti chiusi in casa, come noi, però a quel punto, stando chiusi in casa, più davi degli stimoli al cliente giusti e più il cliente reagiva in maniera proattiva. Dopodiché, negli ultimi giorni di aprile, quando si capiva che grazie ai nostri codici potevamo riaprire dal 4 di maggio, abbiamo strutturato l'azienda con tutti i protocolli per la sicurezza. Il 4 maggio abbiamo riaperto ed era un po' come uscire dalla Tana, no? Perché eravamo... Chissà cosa succederà. Sì, perché il 4 maggio, se ti ricordi, era ancora tutto chiuso, perché poi le riaperture, mi sembra, sono state verso il 20 maggio, 18 maggio, sono le date. Quindi noi uscivamo, eravamo un po' degli extraterrestri che uscivano per venire a lavorare, perché potevamo, grazie ai codici ATECO. Quindi è stata una partenza molto prudenziale e poi pian piano, pian piano, pian piano, noi abbiamo preso confidenza con questa nuova modalità, col patto delle distanze, col patto della sicurezza, nostra e per i nostri clienti. E questa cosa qui, pian piano, è ripartita. E devo dirti che poi dal 4 di maggio ad oggi, quindi noi non ci siamo mai fermati, quindi siamo sempre stati aperti, operativi. Il cliente chiaramente è cambiato, Fiona, nel senso che mentre prima il concetto di concessionaria digitale era più una vetrina, oggi c'è una forte interazione tra digitale e fisico. E sfocia in una vendita? Sfocia in una vendita, sì, sì, assolutamente sì. Ti faccio, tanto per dare un'idea, la digitalizzazione sostanzialmente ha abbattuto le distanze, perché noi teoricamente possiamo tramite il digitale vendere in tutta Europa, quindi non c'è questo tipo di problema. E devo dirti che tra l'altro funziona, cioè funziona molto su alcuni tipi di prodotti, ad esempio sulla vettura usata, sulla vettura a chilometri zero, sull'aziendale, che è quella, no? Cioè non la devi configurare, è quella. Certo, già lì pronta. Bravissima. Hai il colore che ti piace, gli accessori che ti piacciono, ti piace, perfetto. Sai che c'è tutta la garanzia dei brand che rappresentiamo, fai un click, la compri e noi te la portiamo a casa. Quindi questa cosa qui funziona specialmente per quanto riguarda l'usato. Per quanto riguarda il mondo del nuovo, chiaramente c'è tutto il tema della configurazione, che è comunque divertente, però per quanto riguarda il nuovo, poi il cliente desidera ancora venire in concessionaria e toccarla. E poi anche per il service, Fiona, perché comunque anche il service, ti ricordo che proprio in quel momento di lockdown c'erano delle situazioni un po' delicate, no? C'erano delle persone che dovevano per forza uscire a lavorare. Tu pensa soltanto ai medici, agli infermieri, i furgoni che facevano le forniture dei farmaci e noi in quel periodo di chiusura azienda abbiamo comunque garantito l'apertura delle nostre officine per la manutenzione di questi operatori. Giusto, giusto. Invece per quanto riguarda gli strumenti digitali, perché hai parlato di, avete premuto l'acceleratore sulla digitalizzazione, ma che strumenti avete utilizzato? Che non so, webinar, raccoglienza digitale, Whatsapp, di che cosa vi siete avvalsi? Allora, tutto quello che può generare interazione, quindi il webinar, Whatsapp, Hai esplorato tutto? Tutto, sì, sì, perché tutto funziona. Poi il nostro obiettivo e l'abbiamo messo anche su una sorta di manifesto filosofico della Fratelli Giacomel è quello di far diventare nei nostri saloni un luogo esperienziale. Bellissimo, ci piace questa cosa qua, proprio al pensare di venire qua e di star bene. A noi veramente ci piace un sacco, cioè piace star bene noi, ma far star bene anche chi entra, no? Perché poi il segreto della soddisfazione del cliente è di una banalità estrema, cioè se tu entri in una realtà dove vedi che i collaboratori stanno bene e sono sereni, inevitabilmente starai bene, no? L'ultima domanda che volevo chiederti per quanto riguarda le caratteristiche delle macchine, quali sono quelle più cercate dai clienti? Perché noi siamo abituati al web, magari voi che avete il contatto col cliente mi sai dire guarda, la cosa che il cliente cerca di più, chiede di più è questa. Beh, anche qua Fiona abbiamo una grande fortuna noi, nel senso che Fratelli Giacomel rappresenta tutti i brand del gruppo Volkswagen, quindi siamo dealer Audi, Volkswagen, Volkswagen veicoli commerciali, Seat, Seat, Cupra è arrivata l'anno scorso e Skoda, quindi abbiamo una grandissima fortuna a livello di trasversalità. Andiamo dal generalista al premium, tutti i tipi di motorizzazioni, quindi l'elettrico, il metano, la benzina, il gasolio. Per tutti i gusti. Abbiamo tutti i gusti qua e poi abbiamo il prodotto che va per le famiglie, lo sportivo, il lavoro. Quindi, in funzione di questo, ogni cliente ha delle esigenze. Quello che noi andiamo sempre dicendo e ce lo diciamo tra di noi, il segreto è ascoltare il cliente. Se lo ascolti perfettamente, trovi sempre un prodotto giusto per lui. Cioè, trovi la soluzione di mobilità al cliente. E anche qui usciamo dei paradigmi di una volta, no? Arrivava il cliente, il venditore lo metteva a sedere, preventivo, sconto, se va bene, va bene, se va male, è andata. Fa la fase proprio parte col digitale, quindi l'ascolto e quindi vengo alla tua risposta. Ogni cliente cerca qualcosa e noi abbiamo la risposta per qualsiasi cosa. C'è chi cerca lo spazio, c'è chi cerca le prestazioni, c'è chi cerca la motorizzazione, c'è chi cerca l'innovativo, quindi non riesco a dirti cosa cerca. È molto ampia, sì, concordo. Però la nostra grande fortuna, da un lato, merito dall'altro, di avere tutto quello che serve, il nuovo, l'usato, insomma, tante, tante cose. Invece per quanto riguarda il futuro, che cosa puoi svelarci qualcosa oltre a continuare a percorrere il digitale, ma qualcos'altro che puoi anticiparci? Guarda, noi nel futuro a breve, vale a dire autunno, fine estate, autunno 2021, apriremo la filiale di Pavia. Abbiamo aperto la filiale di Lodi a giugno del 2020 e stiamo continuando ad andare avanti in questo progetto di presidio del terreno di nostra competenza. Noi, per farla semplice, diciamo sempre che da Piazza del Duomo di Milano fino al Po sarà il nostro territorio di copertura. Come hai visto, però, col digitale arriviamo ovunque, quindi non abbiamo questo tipo di problema, però siamo convinti che è un corretto presidio del territorio e anche questa attenzione al cliente, vale a dire per il cliente avere uno showroom, il centro assistenza in prossimità dell'abitazione è una grande comodità, quindi noi vogliamo fare questo tipo di, portiamo avanti questo tipo di progetto. Poi abbiamo il progettore in ottica di sviluppo rete che è l'apertura nel 2022 di un hub tecnologico interamente dedicato alla marca Audi in zona Fondazione Prada. Sarà veramente una cosa bellissima, lì faremo proprio il massimo per quanto abbiamo detto prima, per quanto riguarda il concetto di esperienza, per quanto riguarda il concetto di elettrico, per quanto riguarda il concetto di car sharing, di assistenza con il pick up and delivery, abbiamo un sacco di bei progettoni. Nel frattempo stiamo portando avanti lo sviluppo del nostro reparto flotte che ha una connotazione molto forte verso quello che è il noleggio rivolto sia alle piccole e medie imprese che ai privati perché devo dirti che ultimamente i privati si stanno approcciando con molta curiosità al noleggio e poi il concetto dello sharing che per noi su nell'area metropolitana può essere una cosa molto interessante. Beh direi che Damiano di carne al fuoco ne avete un sacco quindi non mi resta che augurarvi in bocca al lupo ma so che siete capaci di grandi cose che non ne avete bisogno. Grazie ancora per essere stato con noi io ti saluto e ci vediamo spero presto di persona. Grazie di cuore a te e a tutti e a presto. Ciao, grazie mille. Ciao. Ciao, ciao. Ciao, ciao.